new cerco un passaggio in questa posizione A tutte le unità. La situazione sotto controllo. La situazione sotto controllo. La situazione sotto controllo. La situazione sotto controllo. Giù le armi! Ehi, ehi! Mi serve comunque in quell'aria. Sono bloccato! Mani indietro la testa! A tutte le unità, gli agenti stanno delimitando l'area. Le saglie individuati nelle vostre vicinanze. Vi mando i dati della posizione. Cecchino avvistato! C'è una telecamera appuntata su di noi. Un po' di munizioni! Grazie, agente! Un po' upgrade! Agenti! Controlliamo quell'area! Avanti! Ti vedo uno nella piazza. Il sospetto è a terra! A tutte le unità! Non muovetevi! In arrivo ulteriori dettagli. Vado offline! Trovatevi un nuovo anzio! Centrale a tutte le unità! Gli agenti hanno ripulito l'area! Arrivano munizioni! Eicolo dei sospetti neutralizzato! Ragazzi, ci serve un po' in quell'aria! C'è chi da? Servono rinforzi per difendere le montane! Granate Inceniaria! Comando mobile, area libera! Guardate! Guardate! Un momento. A tutte le unità. Abbiamo perso un territorio. Sospetti in auto! C'è un sospetto in un'auto! Cecchino in vista! Eccone uno! Ecco un kit medico! Ricciuto! A tutte le unità. Abbiamo perso un territorio. Ne vedo uno nella piazza! Laggiù! Centrale! Sono sul posto. Attendo istruzioni. Ho colpito un sospetto! Kit medico! Elicottero armato in vista. A tutte le unità. 10-26. Gli agenti hanno ripulito l'area. Toglietemeli di dosso! Resisti! Ecco un kit medico! Qui c'è un kit medico! L'ho bloccato! Sparategli! Ne vedo uno! Mi ho portato un kit medico! Sono da... ... ... La scensura è sale. Le coste si apre un gioco scurdo. Vado! Uomo a terra! Ripeto, uomo a terra! A terra! Ora! Attenzione al fuoco! Granata incendiaria lanciata! Granata incendiaria lanciata! Dobbiamo radunarci. Sulla torre! Occhio alle mine in ciampo! Vedo una mina in ciampo! Ci sono delle mine! Garica piazzata! Siamo nuova a terra! Siamo messi male! Ehi, un kit medico! Il sospetto è a terra! Non posso muovermi! Squadra! Non posso muovermi! C'è ne uno lanciù! A tutte le unità! I sospetti stanno guadagnando terreno. Sospetto! Attaccare i sospetti armati! Sospetto eliminato! Ok, l'aria è sotto controllo. Le vedo fra i rigotti! Forzi! Occhio, ce n'è uno sopra di te! Giù le armi! Occhio, ce n'è uno sopra di te! Attenzione, gli agenti hanno perso un territorio. La chù! Oh!